Green Farm è anche Doctenia Animali e siamo con un'associazione del nostro territorio che si chiama Occhio con Occhio. Sono con Martina, giovanissima, che con la famiglia conduce un'attività di rilievo ma secondo me bellissima. Ci racconta un po' per il secondo anno consecutivo cosa presenta alla Green Farm e dove poi vi possiamo venire a trovare. Ciao Martina, grazie. Ciao, sono Martina, ho 22 anni e presento Occhio con Occhio, un maneggio nel Monferrato in Valcerrina e nasce nel 2013 per sviluppare l'ipoturismo sulle colline del basso Monferrato. Soprattutto sviluppiamo attività con i poni, con i bambini soprattutto per diffondere la conoscenza del nostro territorio e di quello che è il mondo dell'equitazione soprattutto dei poni e dei bambini. Quindi per provare attività con le famiglie come si può contattare? Sia per le passeggiate che per i bambini potete utilizzare i nostri recapiti oppure le nostre pagine social, siamo a Odalengo Grande e inviavo Giardinove. Occhio con occhio quindi la vostra pagina. Occhio con occhio. Nel frattempo, visto che è sabato sera, per chi è qui ha voglia di fare una serata diversa, c'è la Green Farm, Palafiere, è stato Riccardo Coppo, e domani dalle 10 alle 23. Siamo di nuovo qua. Vi aspettiamo qui per far vedere anche come accolgono questi fantastici animaletti, i poni. Noi vi aspettiamo domani di nuovo qua, stesso posto. Buona serata. Ciao. 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 Ciao.